Salve a tutti gente, bentornati a Two Links and the dog. Skyward Swords! Mi sono trattenuto del completarlo perché sapevo che era sbagliato. L'ultima volta abbiamo liberato una riscia, detto anche The Wind Fish, da me. Spoiler di Link's Awakening. E oggi faremo side quest. Penso. Eh già. Se ci avanza tempo proseguiamo con la storia. Parliamo con sto tizio, con il fratello della sorella, a.k.a. Palermo. Sono andato sulla V, che è ufficialmente Palermo adesso. Ok. Ciao Link, vai sempre in giro, pieno di cose da fare. Ehi, tu hai un compagno di corso che si chiama Daccio, giusto? Ha detto di aver scoperto un luogo ideale per l'allevamento di insetti all'interno di Cumulo Nembo. Quel tipo è proprio strambo. Mi chiedo cosa abbia davvero intenzione di fare quando parla di giardino entomologico. Serve lui per attivare la side quest di Terry? Non credo. Comunque dov'è Terry? Terry! Interrompo un attimo i nostri eroi che stanno per sprecare una buona mezz'ora di video a non fare assolutamente niente. Quindi vi risparmio il dolore e saltiamo direttamente alla parte dove iniziamo a fare qualcosa. Ok! Bene, Asiostus. Otus. Nonostus. Hai la nuvoletta, zio. Sì. Parla. Ehi Link, com'è andata? Sei riuscito a parlare con Alicia? Non grazie a te. Davvero? Lo dicevo che hai una marcia in più rispetto agli altri. Tu e il tuo sol Canubi, Carminio, non avete di certi problemi? Avrete. La strada è ancora lunga e piena di difficoltà, ma non darti mai per vinto. Ahem. A proposito, ti va di ascoltare la mia richiesta? Come già saprai, sono il più famoso collezionista di piante di oltre nuvola. L'unico. O perlomeno credo. Comunque, ho l'impressione che la mia collezione di piante sia quasi completa. Così stavo pensando di cercare un nuovo esemplare raro da qualche parte. Che ne pensi? Non ti andrebbe di andare a cercare una nuova pianta che potrebbe sorprendere tutti? Ci provo. Oh, lo sapevo che tu avresti ascoltato la mia richiesta. Per favore, mi porteresti un esemplare di pianta rara? Ho una... un fiore antico? Che vuoi? Rilevatore impostato per la ricerca della pianta desiderata da questo individuo. Servitene per localizzarla. Tuttavia, nel caso in cui sia in corso la ricerca, la loro rilevazione sarà compromessa. Volete impostare rilevata... No. Io non lo so. Sì, mio signore, nel caso in cui vogliate effettuare l'impostazione, parlate a questo individuo. L'ho presa la set, questo che? Penso di sì. Ehi, Sparvio, ti piace la collezione di piante del professor Asiotus? Collezione di piante? Man, quella è muffa. Oh. Ok. Già sappiamo già dove andare a cercarlo. Ed è anche la nostra prossima destinazione. Verso la foresta! Andiamo a completare la canzone. Cos'era dell'impavido? A completare? Dobbiamo ancora andare a prendere uno dei primi pezzi. Vabbè. Posso lanciarmi? Oh, si è lanciato da solo. Quanto voli basso, Lethal? Abbastanza? Troppo. Mio signore, fai rapporto? Al momento nella foresta di Firone si stanno verificando dei misteriosi mutamenti. Sembra sia impossibile scendere ora nella foresta. Beh, allora scendiamo. Santuario retro, andiamo retro. Sì. A dire il vero credo che sia sbagliato. No, vabbè. No, è il retro. No? No? Sì, 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 c'è la scorciatore. I think. Perché le porte sono chiuse, giusto? Sì, sono chiuse. Però c'è la scorciatore che abbiamo aperto. Anche se non l'abbiamo aperta, credo che sia di qua, no? Il cielo non avrebbe senso, perché possiamo letteralmente andare solo in due luoghi. E se dobbiamo andare alla torre delle canzoni? Cacchio ci devi andare a fare lì. O nella torre dove abbiamo ottenuto la spada? Oh! Badoce vuol dire qualcosa? Ma parlerà del fiore, no? Oh! È già adesso? È già. Mi pareva che erano vicini. Beh, ti aspetto. Cioè, in teoria non sono vicini, perché puoi andare a fare tutti quelli che vuoi per prima. Sei sicuro? Puoi andare prima alla terra di Holden. Però, sì. Dove vado? Pintuaria. Puoi prendere la scorciatoia, Lethal, e buttarti e lì... Buddy ti fermerà. I'm not ready. Neanch'io! Ma tu sei sempre pronto, Zero. Cioè, il tuo stato di default è quasi pronto. No, non è vero. Il mio stato di default è... Speriamo che vada bene. Ok. T'ho rotolato sul posto. Che cacchio... Ehi, Link! A quanto pare l'essere oscuro si sta risvegliando di nuovo! Mi vado a preparare, aspetta un attimo! Io prevedo un game over, I'm sorry. Per me. Io non prevedo un game over, ma... Ma è mancato quel... Il colpo decisivo, ma... Ah, ci siamo! I giochi stanno per cominciare! La calma è la virtù dei forti. Del resto, ormai ti rendi conto delle potenzialità della mia badopulta. Fino a quando ci sarà la mia arma, la parola sconfitta non esisterà nel mio dizionario. Forse è questa la missione che mi è stata affidata. Link, cerca solo di non trovarti sulla traiettore di tiro! Mai fatto, ok. Come facciamo già? Il problema è quello, che non so come... come... come regestire. Facciamo una cosa, Lethal. Vai alla porta. Oh god, devo risalire allora. Ah no, boh, è quella parte. Si può entrare. Non credo. Forse? Sì, sì. Si può entrare. Entra. Puoi entrare e uscire? Sì, entra ed esci. La vecchietta dice qualcosa. Non le voglio parlare. Neanche. Ormai lo sa. Same shit. Ok. Sei pronto, Lethal? Fermo. 3, 2, 1, via! Here it comes. Here it comes, Speed Racer. Io non sono pronto. Per niente. Il ritorno della pigna! Ta-ta-ta. Blargh! Buoh, succede così spesso per suggerire Oh, il sigillo si sta indebolendo. Sì. No, le mani! E la coda? Il recluso... Il recluso si è rotto di essere recluso. Ecco che ritorna! Sono pronto tutto! Facciamo esattamente quell'altra volta! Aha. Oh my god, non mi ricordo più com'è. Ok. Non riescerò a farlo al primo colpo. So di essere già in ritardo. Oh sì, appunto. Mi ha buttato giù. Oh, come on! Eh. Come on, Link. Come on, Link. No, no! Fuuuck! Oh my god... Mi sai che il game over lo faccio io, Lato? Se continuo così... Io non sono riuscito ancora neanche a farglielo una volta, giusto per dirti. Neanch'io, in teoria. Ok, fuck it. Fuck it. Ci andiamo giù pesanti. Anche se è lento. Non mi interessa. Ok. Wow, non mi ricordavo che si scuotesse dei dos così in fretta. Sì. Sì, mi sa che il game over lo faccio io. Ho sbagliato troppe volte. Io ci ho sbagliato tre volte, quindi... Ho detto ci vado piano così non sbaglio e poi... Se non facesse la cosa serpente fra una volta e l'altra magari ce la faremo. Ok. Ok. Come non adesso. Oh, what? È già adesso? Niente game over. Uff. Ce l'hai fatta? Ah, no. No. Manca ancora l'ultimo. Ah, ok, mi son confuso. Pensavo che era già adesso l'ultimo colpo. Ah, fuck it. Potevo vincere stavolta, ma... No. Adesso arriva il colpo di grazie. Quello che vale... Vale il tuo bisogno. Beh, può darsi che io lo sbaglierò. No. Tu non sbagli nel momento del bisogno. Beh, ho sbagliato strada. Oh, my God. Sto preparo chi vuole. Un cacchio di aureola malvagia. È tutto perché sono crollati quei sassi. Vado, parlami! Non vuole. Oh, my God. Link. Link. Sali. Ok. Ma tutto. E qui ho rischiato un sacco perché era quasi arrivato. Eh, io non so se già la faccio. Che semblò che è adesso? Che semblò che è adesso? Mmmh. Mmmh. Ora, Link, colpisce il pilastro con il potere celeste, sbrigati! Andiamo a quando ci sei. Pronto? L'ho caricato. Ok. Oh, come è caricato? What? Dai! L'ho caricato. Carico, vai. 3, 2, 1, via. Adesso facciamo i tre. Non ho visto... Ok. Ah, quasi. Sbagliato una volta. È una Triforza sbilenca. Nice. Link, ce la siamo cavata per un pelo questa volta? Comunque alla fine tutto è andato per il verso giusto. Beh, io vado al santuario, sbrigati a raggiungermi. Probabilmente avevano pensato tipo che non andavi tipo per primo al santuario, cioè non andavi per primo a fare il drago d'acqua, magari andavi prima a fare Aldi o così. Boh, ma comunque non... Non è che cambia granché. Sono tutte e tre abbastanza brevi rispetto al resto del gioco. Ok. Cosa sono andato? Tipo nel punto più lontano possibile. Vabbè, io entro. Cosa volevo dire? Dobbiamo entrare? Sì, vado, dice. Ti aspetto nel santuario. Ah, ora mi ricordo. Io non so neanche se si può fallire quella cosa alla fine. Cioè, puoi mancare la mira, ma puoi prenderti il tuo tempo, credo. Da me era quasi arrivato, guarda. Lo so, però io quando lo guardavo mentre prendevo la mira sembrava che non salisse più. Era tipo fermo. Vabbè. L'hai imprigionato per la terza volta. Link, vado. Bravi. Ma la creatura oscura impiega sempre meno tempo per distruggere il sigillo. Devi fare presto, Link. Senti, hai trovato qualche indizio sulla Triforza? Sì. Trovati i tre draghi e con la melodia dell'impavido completata la strada per la Triforza ti si paleserà. La foresta di Firone è qui vicino, ma di recente sembra che si trovi in condizioni anomale. Non so bene cosa sia successo, ma all'improvviso la strada che conduce alla foresta di Firone si è improvvisamente allagata. Per fermare il flusso d'acqua sono stata costretta ad apporre un blocco. Questo significa che l'accesso verso la foresta è chiuso. Se venisse riaperto il livello dell'acqua salirebbe di nuovo, quindi è meglio tenerlo chiuso per ora. Insomma, non credo che tu possa recarti nella foresta di Firone. Eh eh eh, ci sono qui io! Mentre combattevo prima, stavo giusto pensando a un nuovo modo di usare la badopulta. Ti ci faccio salire, sparo a tutta potenza e vedrai che arrivi alla foresta in un batter d'occhio. Eh eh eh. Come lo battevo il recluso senza pato? I stivali magici? Allora Link, buon viaggio! Poteva fare a meno di lui. Poteva fare anche a meno di lui. Come fai a colpirlo se vola? Chi ha messo il canubi e gli voli sopra? Che cacchio. Questa frase non me la ricordavo. Neanch'io. Che fastidio. Ehi, vado. Let's do it, vado. Sono già 40 minuti. Vuoi andare nella foresta di Firone? Con la badopulta faremo in un attimo. Ok. Ottimo, lascia fare a me. La foresta di Firone è vicina. Buon viaggio! La foresta di Firone è vicino. Questa è la foresta di Firone è vicino. Grazie a tutti.